Taranto, Port Days 2019, il porto di Taranto, si apre a tanti eventi, una iniziativa per renderlo davvero fruibile per la città di Taranto, per la collettività. In questa ottica anche, proprio sfruttando la portualità, il discorso della ZES. Sì, certo, intorno al porto di Taranto si muove il futuro di quello che può essere il riscatto di questa città. Come Regione, in grande sintonia con l'autorità portuale dello Ionio, stiamo lavorando non soltanto per quanto riguarda l'obiettivo grande e aspettiamo a giorni il riconoscimento da parte del Ministero della Zona Economica Speciale, che darà la possibilità di grandi investimenti, di poter attrarre nuove imprese che arrivano sui nostri territori. Si badi bene non soltanto a Taranto, ma in tantissimi comuni della provincia di Taranto, ma nello stesso tempo aspettiamo con grande attenzione anche le novità di questo progetto sperimentale con l'Università di Bari, che ho fortemente voluto per quanto riguarda la collaborazione con il BALAB dell'Università di Bari, già presente all'interno dell'Ateneo di Bari, e che puntiamo qui nella nostra provincia, nella nostra città, nel nostro porto, a fare un esperimento di incubatore delle imprese, delle imprese innovative, delle start-up, per dare la possibilità a tutti i giovani laureati, laureandi, che vogliono cimentarsi con nuove iniziative imprenditoriali, di avere un luogo, di avere un tutor, di avere l'assistenza della Regione, e quindi di avere un contesto ottimale su cui sperimentare, potenziare e portare avanti le proprie intelligenze e le proprie attività che si vogliono mettere in campo.